Salve amici, bentornati su Top Rap Bang, il canale dove si parla scherzosamente di cose serie e si parla seriamente di cose scherzose, per un video di cibo. Oggi parliamo di questi oggettini qua, questi sono classici delle menze, degli alberghi, di tutti questi posti dove si mangia in comunità, miele, marmellate, eccetera. Questi normalmente hanno di loro una scadenza molto lunga, perché li stivano da un anno all'altro, la scadenza di solito è riportata dietro e almeno un annetto vanno avanti di scadenza. Per il miele però, tenete presente che il miele in realtà non scade. Il miele alla lunga cristallizza, ma anche, tra le altre cose, il miele è antibatterico, anche il miele che trovate cristallizzato in una tomba egizia, volendolo, scardate un po', lo fate diventare morbido e ve lo potreste mangiare, in teoria. Ergo, in realtà è un ottimo cibo dell'apocalisse che potete metterne lì in qualche scatoletta, poi magari le potete ruotare nel corso del tempo, perché il miele in famiglia di solito si usa. Se periodicamente, quando sta per scadere, invece di comprare un vasetto di miele, vi mangiate 20 di questi nel corso di un mese e ne comprate altri 20 e li mettete da parte nello scaffale. Sono ottimi per l'escursione, perché è roba zuccherosa che dà un'immediata sferzata d'energia. Sono ottimi in un piccolo kit di roba da mangiare per un kit di sopravvivenza, se il kit consente di procurarsi l'acqua, perché se non mangiare vuol dire consumare preziosa acqua per digerire. Poi la roba zuccherosa dà un sacco di sete, ma se il vostro kit consente di procurarsi l'acqua e trasportarla, purificarla, eccetera, il miele è dolce, uno la sera ha fame, si mangia una cosina di miele, gli dà un po' di energia e tirano anche sul murale o la marmellata. Comunque in ogni caso sono calorie preziose a lunga scadenza, facilmente trasportabili, leggere, quindi sono cose che quando vi capitano, che mangiate alla mensa e non avete messo e mangiato il miele, oppure c'è alla mensa il vassoio dove si prende i dolcificanti, c'è le bustine del miele, delle bustine di zucchero, voi ubicate una bustina di miele e una di zucchero, mettete lo zucchero nel caffè, perché è raro che si metta il miele, mettete lo zucchero nel caffè oppure lo prendete amaro, se vi piace amaro, e la bustina di miele ve la emboscate e ve la portate via e vi fate una bustina alla volta la vostra scorta. Tanto che la mettiate nel caffè o che la portiate via, per la mensa è uguale, non gliene frega nulla. Quindi voi vi fate la vostra piccola riserva di dolcezza e per l'apocalisse sapete che potete contare su queste piccole cose. Un video molto semplice, molto veloce, comunque secondo me un video molto dolce. Noi ci vediamo la prossima volta, ancora una volta sul Tupperack Bang, ancora una volta circondati dagli zombie, a mangiare in me. Ciao!